A Teramo il capogruppo regionale del Partito Democratico, Silvio Paolucci e il vice capogruppo Dino Pepe hanno effettuato delle visite ispettive per conoscere e approfondire eventuali criticità riscontrate nei rispettivi ambiti di competenza. Il primo appuntamento è stato quello con i lavoratori della TUA nella sede in Contrada Tordinia. Per l'occasione si è svolta anche un'assemblea per fare il punto della questione trasporti nel Teramano e della modalità del nuovo piano assunzioni che l'azienda per il trasporto vuole mettere in atto, presenta l'incontro anche il direttore generale TUA di Pasquale. C'è una confusione su questo settore molto forte, mancanza di risorse e soprattutto servizi scadenti a cittadini, lavoratori e studenti. Oggi abbiamo portato qui sia i rappresentanti sindacali e sia finalmente il direttore di TUA per un confronto con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori stessi. Si parla tanto di un concorso che attendiamo da anni, ma questo concorso è molto molto discusso tra le organizzazioni sindacali e TUA. Qui purtroppo manca la politica della Giunta regionale, mancano i rappresentanti della Giunta regionale, poiché si deve intervenire. TUA è una società completamente pubblica, gestita direttamente dalla Giunta regionale e quindi manca l'intervento di Marsilio e della Giunta affinché si creano rapporti più sereni tra le organizzazioni sindacali e l'organo di gestione, ma soprattutto che migliorino i servizi a cittadini, lavoratori e studenti. Finalmente, grazie al Commissario Legnini, ci saranno le risorse del PNRR di rapido utilizzo per mettere mano a una sede che vede da purtroppo troppo tempo assenti gli investimenti. In secondo luogo, il tema della programmazione regionale taglia i trasporti ed è insostenibile con 77 milioni di cartolarizzazioni in meno che si è ritrovata la Giunta Marsilio mettere zero i trasporti, anzi addirittura tagliare come lo scorso anno 7 milioni di euro è davvero a mio avviso un errore madornale della programmazione della Giunta lenta. E terzo le assunzioni, che è molto significativo. Per la prima volta si può investire sul personale, ma come lo si fa? Sostanzialmente pagandolo di meno e dandogli meno diritti. Mi sembra assurdo anche in questo caso, ecco perché siamo qui a Teramo in visita ispettiva e mi pare di poter sottolineare che questa Giunta lenta davvero è molto distante da Teramo e dai suoi problemi. Non riguarda solamente tu all'incontro di oggi, ma ci sono anche altre problematiche in città, tra queste e anche la questione della Biblioteca Delfico. Sì, storica biblioteca per quanto riguarda il patrimonio conoscitivo e non solo di tutta la Regione Abruzzo e ovviamente anche in questo caso la Giunta lenta è assente. Non investe, non dà personale, addirittura le tiene chiusi e per un largo tratto del 2021 sono mancate addirittura le sanificazioni e ci è voluta non solo una visita ispettiva, ma interpellanze molto molto dure per poterle appunto riaprire. Ma come sono riaperte otti senza gestione e senza un indirizzo significano davvero non voler investire sulla cultura nonostante le risorse che si hanno oggi a disposizione.